Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Andiamo subito a vedere le notizie principali del momento Cambia l'arbitro di questa sera Laia ha infatti comunicato che ad arbitrare la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta Non sarà più Daniele Doveri ma Piero Giacomelli Assistito da Del Giovane e Bindoni Quarto uomo Mariani Var Manganiello E Avar Valeriani Intanto questa sera sarà anche la sfida per l'Europa Fiorentina e Atalanta sognano la finale per giocarsi il jackpot Europa League E la conseguente tranquillità in campionato In un clima spettacolare con 32.000 tifosi presenti è la Curva Fiesole Che ha già pronto una coreografia per ricordare e onorare la memoria di Davide Astori Coreografia che tuttavia rimane ancora top secret Per Fiorentina1.com Andrea Valeri Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola